E allontana dalla relazione psicoaffettiva e informativa, il figlio minore è in essenza di una mediazione familiare importante e strutturata. Purtroppo non ci sono gli scomenti reali per creare un po' di rete. Quanta c'è di voi vota in questa storia? Sono almeno diverso della popolazione mondiale. Io su questo ci ho creato un cortometraggio, una canzone. Con Giancarlo Giannini. Se ti do la mamma non vuole, se volete andare a guardare, si può farlo attraverso il web www.mammanonvuole.com E c'è anche una bellissima canzone che sta diventando un himno dei padri separati che non riescono a riazionarsi con i loro figli. Vi prego di seguire. Vorrei dire che l'anno prossimo tratteremo nuovamente questo tema e magari la rinvidiamo. Certo. Questa è stata una considerazione. Grazie a te e a presentarci poi. Grazie.